Il Comune di Battipaglia ha pubblicato un avviso con scadenza 11 settembre per la ricerca di immobili privati destinati ad accogliere i 330 alunni della scuola primaria provenienti dall'Istituto Fiorentino, chiuso dopo che le verifiche di vulnerabilità sismica ne hanno accertato la non idoneità. Nei giorni scorsi l'amministrazione ha inoltre comunicato di aver ottenuto un finanziamento complessivo di 11,3 milioni di euro per la sistemazione ai fini antisismici proprio dell'Istituto Comprensivo Fiorentino e dell'Istituto Kennedy nell'ambito del piano triennale dell'edilizia scolastica della Regione Campania. I progetti in questione riguardano la realizzazione dei nuovi edifici delle Fiorentino e delle Kennedy con la concreta possibilità, come affermano dall'amministrazione, di ricevere un nuovo finanziamento per le scuole Marconi nell'annualità successiva. Un risultato spiega la sindaca Cecilia Francese che questa amministrazione rivendica con orgoglio. Preferiamo rispondere con i fatti a chi ci accusa di stare fermi.